Donadio, da Roma nel cuore dell'Alto Molise per questo camp tecnico, come mai questa scelta? Beh è una scelta dettata anche dal cuore, ho parenti con mia moglie qua che è di Agnone e comunque è sempre un piacere di tornare in questa splendida cittadina dell'Alto Molise dove mi sono sempre trovato bene. È un'esperienza che ho voluto portare qua nel cuore di questa cittadina perché è un camp legato a un discorso di tecnica calcistica dove partecipano tanti ragazzi che vengono da Roma anche per ampliare il discorso della conoscenza del paese molisano e devo essere contento di quello che ho fatto perché abbiamo raggiunto un numero importante di partecipanti. Quanti ragazzi e soprattutto teneva a sottolineare il fatto che non è solo un'esperienza calcistica ma anche ludica? Sì, oggi siamo stati fortunati che ci hanno ospitato qua da Marinelli dove producono le campane, è stata un'esperienza per i ragazzi bellissima ma è un'esperienza soprattutto di crescita per i ragazzi perché comunque rendersi indipendenti, lontano dai genitori perché i genitori appunto stanno a Roma, alcuni stanno, abbiamo avuto anche devo ringraziare, abbiamo avuto ragazzi anche qua dei molisani che ci sono venuti a trovare ed è un'esperienza soprattutto formativa formativa sia caratteriale ma soprattutto tecnica ma anche di autostima perché noi lavoriamo tanto sull'autostima del ragazzo e devo dire che è una cosa bellissima questa perché quando poi ritornano nelle proprie società di club hanno più sicurezza dei propri mezzi perché noi facciamo proprio un lavoro sulla sensibilità del piede sulla crescita anche tecnica del bambino sotto l'aspetto della gestione del pallone Tra i tanti aspetti c'è anche l'aspetto di un ritorno economico per il territorio Sì perché devo dire che abbiamo avuto un'affluenza importante anche da parte dei genitori i genitori sono rimasti affascinati da questo posto e dai posti circostanti che non conoscevano mi hanno fatto tutti i complimenti, mi hanno mandato messaggi per loro è stata un'esperienza nuova che speriamo di insomma di ripetere il prossimo anno magari proponendo anche una doppia settimana di allenamento E speriamo anche di tirar fuori qualche campioncino Beh sicuramente noi lavoriamo su quello ma soprattutto per un discorso loro di crescita personale del ragazzo che è una cosa importante Terevo a ringraziare anche Fernando che ci ha dato la possibilità Fernando Sì che è responsabile della scuola calcio dell'Agnonese Sì che ci ha dato la possibilità insomma di farci avvicinare a questo territorio con questa struttura che è spettacolare e splendida Devo ringraziare i miei collaboratori che sono collaboratori fantastici e grazie a tutti quanti